Eeeh, salve a tutti i miei giocatori e ben tornati in questo dopissimo video Oggi, come avevo detto già da qualche video Vi porto la spiegazione di tutte le armature esistenti nel gioco Dalle armature normali alle armored rig Intanto vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio discord Dal discord della community italiana e a tante altre cose interessanti Quindi date sempre un occhio Vi ricordo che questa serie è concentrata per quelli che ancora il gioco non lo conoscono Quindi per quelli che hanno iniziato Ma ovviamente andiamo a step e facciamo piano piano altre cose Come nel prossimo episodio ho già pensato di portarvi i proiettili Così matcha insieme alle armature e poi vedremo il perché E un altro piccolo appunto Tutto quanto potrebbe cambiare Quindi come i punti dell'armatura massimi Da chi si compra o chi si scambia e con cosa si scambia Quindi queste cose non le ho messe Perché voglio cercare di rendere questi video il più longevi possibile Quindi non ho messo queste cose perché in futuro potrebbero cambiare Quindi senza dilungarci troppo Partiamo subito con le armature di livello 2 Allora le armature di livello 2 sono molto buone contro i colpi di fucilla pompa E quelli delle pistole però che hanno poca penetrazione Mentre per il pvp fanno un po' schifo Quindi dobbiamo cercare di restare sul pv e quindi possiamo chiamarle armature da quest diciamo Quindi partiamo subito con la paca La paca è a 50 armor points di massimo E' fatta di aramide Quindi dura molto e si ripara bene e con poco Come movement speed abbiamo il meno 6% Di turning speed meno 5% Di ergonomia meno 6% Protegge torace e stomaco Quindi il paca non è malissimo ovviamente Per avere una protezione inizialmente Poi andiamo dalla sua sorella che è la 3M Che sostanzialmente è uguale in tutto quanto con Come il paca Soltanto che è bianca E ha 40 punti invece di 50 E la 3M sostanzialmente serve più per una quest Dove bisogna darle a skir Poi passiamo alla 6B2 Che ha 80 punti Quindi ha molti punti Materiale fatto di titano Ha un'ottima durabilità Una buona riparazione E protegge molto meglio del paca del 3M Movement speed rimuove il 6% Turning speed meno 3% Ergonomia meno 7% Protegge anche questa torace e stomaco Piccola notazione prima di passare a quelle di livello 3 La movement speed, turning speed ed ergonomia Sono cose che ovviamente non si notano Quindi movement speed andate più lenti Turning speed quando voi muovete Insomma girate la visuale siete un po' più lenti E l'ergonomia del personaggio Vi fa scendere la stamina un po' più velocemente E tutto il movimento del personaggio è più rozzo Quindi passiamo alle armature di livello 3 Anche queste sono buone contro i shotgun Contro i colpi delle pistole E contro i colpi di fucile quelli basi Quindi quelle che hanno poca penetrazione E diciamo che non sono male contro gente Con un gear magari simile al vostro Passiamo dalla MF Untar Che è un'armatura dei puffi È super blu Ha 45 punti Il materiale è fatto di aluminum Che dura poco e si ripara male Quindi è un'armatura un po' brutta come armatura Anche perché di movement speed level 18% Turning speed meno 6 Ergonomia meno 8% Protegge torace e stomaco E questa armatura se potete evitare Evitatela perché è blu E non è chissà questa cosa speciale Poi passiamo alla Zook 3 Press Ha 50 punti Il materiale è fatto di ultra high weight polietilene Che ha un'ottima durabilità Riparazione e protezione Questo materiale è veramente buono Movement speed meno 10% Turning speed meno 4% Ergonomia meno 5% Anche questa protegge torace e stomaco Quindi come materiale è ottimo Perché dà anche un buon bilanciamento Per tutta l'ergonomia e il resto che ti leva Quindi se ai livelli iniziali la trovate Questa è una delle armature da tenere Poi troviamo la Kirasa A 70 punti È fatto di combined materials Che ha un'ottima durabilità Riparabilità e protegge da diversi colpi Quindi vi protegge abbastanza bene Perché comunque ha 70 punti Però come materiale non è fantastico Vi leva l'8% di movement Meno 5% di turning speed Meno 6% di ergonomia E anche questa protegge torace e stomaco Anche la Kirasa è una di quelle armature Che se la trovate la dovete tenere Perché come class armor 3 È una delle migliori È veramente buona Poi c'è la 6B23-1 Che ha 60 punti Il materiale è fatto di armor steel Dura poco ma protegge bene E si ripara bene questa Quindi se vi sparano Ve la buttano giù veramente veloce Però come protezione è veramente buona E quando volete andare a riparare Ve la riparate veramente bene Con pochi soldi Movement speed meno 11% Turning speed meno 5% Ergonomia meno 9% Protegge torace e stomaco Anche questa Anche questa è una di quelle armature di livello 3 Che all'inizio se trovate ve la dovete tenere Poi passiamo alla 6B5-16 Questa è un armored rig Quindi la dovete mettere a posto del rig Dove mettete i caricatori E non potete metterci un'armatura sotto Ha 80 punti Materiale titanio Che ha un'ottima durabilità E una buona riparazione Il titanio è anche buono come protezione Movement speed meno 9% Touring speed meno 5% Ergonomia meno 12% Anche questa protegge torace e stomaco Anche questa è una di quelle armature di livello 3 Che se trovate all'inizio dovete tenere Quindi fra tutte La untar Quella Protegge come le altre Quindi shotgun Pistole Però per i fucili Protegge dai colpi Quelli con un pochettino più di penetrazione E quindi Se dovete utilizzare la livello 4 Quindi è buona per PVP e PVE Iniziamo con la 6B13 C'è la digital flora E la flora pattern Che sono la stessa cosa Hanno 47 punti Materiale ceramica Dura poco Si ripara male Ma protegge bene Movement speed meno 12% Touring speed meno 3% Ergonomia meno 5% Anche questa protegge torace e stomaco Però se queste le trovate Vi consiglio di tenere anche queste Poi c'è la 6B23 trattino 2 Che ha 55 punti Il materiale è ceramica Anche questa dura poco Si ripara male Ma protegge bene Movement speed meno 11% Turning speed meno 3% Ergonomia meno 9% Protegge anche questa torace e stomaco Poi passiamo alla GZEL Che ha 75 punti Materiale anche questa è di ceramica Quindi nuovamente dura poco Si ripara male Ma protegge bene Movement speed meno 10% Turning speed meno 3% Ergonomia meno 4% Anche questa protegge torace e stomaco E la GZEL serve per quest E dovete anche Se la trovate tenetela Perché anche la GZEL è veramente buona Come armatura Poi passiamo alla trooper Che ha 70 punti Materiale fatto di ultra weight profilene Che quindi ha un'ottima durabilità Riparazione e protezione Meno 9% di movement speed Turning speed meno 2% Ergonomia meno 3% E protegge solo il torace E' ottima come protezione Anche come debuff Ve ne da veramente pochi Però il problema è che protegge soltanto il torace Quindi se vi sparano allo stomaco Ve lo possono bucare facilmente Se hanno colpi che fanno male alla carne Vi possono fare veramente male Poi passiamo agli armor red rig C'è l'ars arma A18 Quindi come quello dell'armor class 3 Ve lo dovete mettere al posto del rig Dove mettete i caricatori Non potete metterci un'altra armatura sotto Ha 80 punti Quindi veramente tanti Materiale Combined materials Quindi ha un'ottima durabilità E riparabilità E protegge anche bene Movement speed meno 7% Touring speed meno 4% Ergonomia meno 6% Però anche questa Protegge solo il torace Però è veramente grande come spazio Quindi comunque se la trovate Fate un po' voi Io consiglio di tenerla E di usarla Poi c'è il 6B3TM Trattino 0,1M Che ha 40 punti Materiale Titan Ottima durabilità E buona riparazione E anche questo Perché titanio Ripara comunque bene Movement speed meno 10% Touring speed meno 5% Ergonomia meno 15% Questa però protegge il torace E stomaco Poi passiamo all'M2 Oana M2 O come volete chiamarlo Ha 60 punti Materiale Anche questo Titan Quindi uguale Ottima durabilità Buona riparazione E buona protezione Anche Movement speed meno 8% Touring speed meno 5% Ergonomia meno 2% E questa protegge Torace e stomaco Quindi questa Veramente consigliata Se la trovate Poi c'è la sorella Ovvero l'M1 Che ha 65 punti Quindi 5 punti in più Anche questa è fatta Di titanio O quindi ottima durabilità Buona riparazione Buona protezione Movement speed meno 10% Touring speed meno 5% Ergonomia meno 5% Anche questa protegge Torace e stomaco Quindi sostanzialmente Ha 5 punti in più Vi leva Più ergonomia Più movement speed Però avete 5 punti in più Fate un po' voi Anche questo È grande Vedete un po' voi Poi c'è il tv 110 Che ha 85 punti Questo è fatto Di armor Red Di armor steel Che quindi dura poco Ma protegge Si ripara bene Movement speed Meno 8% Touring speed Meno 4% Ergonomia Meno 5% E anche questa Protegge solo Il torace Però È grande E È comunque buona Poi c'è la vs Una delle mie preferite Che uso veramente Veramente tanto Ha 70 punti Di materiale È un Combined materials Quindi ottima durabilità Riparabilità E protezione Movement speed Meno 10% Touring speed Meno 2% Ergonomia Meno 2% Protegge torace E stomaco Questa è un armor Rig Livello 4 Veramente Veramente Buona A mio parere Una delle migliori Armored rig Livello 4 Che ci sono Poi passiamo Alla 6b5 Trattino 15 A 50 punti Materiale Ceramica Quindi dura poco Si rifara male Ma protegge bene Movement speed Meno 14 Turning speed Meno 7 Ergonomia Meno 12% Protegge torace E stomaco Ora passiamo Alle armor class Livello 5 Queste sono Tra le migliori Tra bilanciamento Tra protezione E mobilità Protegge quasi tutti i proiettili Tranne quelli super penetranti Diciamo che fanno un po' fatica A proteggerli Ottime ovviamente Per il pvp E anche ovviamente Per il pve Quindi se volete fare Anche un fight Con gente bella grossa Potete farlo Perché questo almeno vi proteggo Quindi c'è la Fort Reduit T5 A 95 punti Materiale Combined Materials Quindi ottima durabilità Riparabilità E protezione Qui questa Costa veramente tanto Se dovete andarla a riparare Movement speed Meno 37% Turning speed Meno 15% Ergonomia Meno 14% Protegge torace E stomaco Ed entrambe le braccia Quindi al corpo Avete una protezione Completa Piccolo appunto Sul Combined Materials Se Lo riparate dal mechanic Vi costa veramente Veramente Tanto ma la riparate bene Se lo fate da proper Vi costa ovviamente Di meno Ma la riparate male Quindi A vostra scelta Vedete se tenere Le armature Combined Materials Come era la VS Poi c'è la sorellina Minore Che è la Fort Reduit Trattino M A 57 punti Uguale E' fatta di Combined Materials Quindi ottima durabilità Riparabilità E Protegge da diversi colpi Movement Speed M-13% Turning Speed M-12% Ergonomia M-11% Protegge da torace E stomaco Poi passiamo alla famiglia Delle Gen 4 C'è la Gen 4 Full Che ha 80 punti Materiale Titanio Quindi ottima durabilità Buona riparazione E protegge comunque bene Movement Speed M-33% Turning Speed M-15% Ergonomia M-18% Anche questa Ha una protezione totale Torace Stomaco Ed entrambe le braccia Poi passiamo Alla Un'altra sua Sorellina Che è la Gen 4 High Mobility Quindi materiale Uguale Movement Speed M-11% Turning Speed M-15% Ergonomia M-11% Ma questa protegge Torace E stomaco Poi C'è l'altra Sorella La Gen 4 Assault Che ha 68 punti Stesso materiale Titanio Movement Speed M-17% M-9% Turning Speed Ergonomia M-8% Protegge Torace E stomaco D'entrambe Le braccia Quindi la Gen 4 Assault Se la trovate Vi consiglio Di tenerla Tutta Perché È una Delle migliori Della famiglia Poi C'è una Delle migliori Armature Livello 5 Ovvero L'SB13M Tra parentesi La chiamiamo L'armatura Di killa Ha 60 punti È fatta di Ultra High Weight Pro Polietilene Madonna questo nome Quindi Ha un'attima durabilità Riparazione E protezione Costa veramente poco Riparare Anche da Prapor E la riparate Proprio Vi leva pochi punti Anche da Prapor Movement Speed M-9% Turning Speed M-3% Ergonomia M-5% Protegge Torace E stomaco Questa è veramente Una delle migliori Armature Perché Vi dà Pochi debuff Si ripara E protegge Veramente Veramente Bene Costa anche Poco Riparare Poi Passiamo All'unica Armored Rig Livello 5 Che è L'Attack Tech Che ha 50 punti Materiale Anche lei Ultra High Weight Polietilene Movement Speed M-7% Turning Speed M-3% Ergonomia M-3% E questa Però Protegge Solo il torace L'Attack Tech Di livello 5 E' una delle mie Armored Rig Preferite Quindi anche questa Consigliatissima Poi passiamo Alle armor class 6 Che queste proteggono Da tutto Tranne dai proiettili Ultra Mega Mega Penetranti Più forti del gioco Anche queste Proprio Quelle riescono A penetrarle Hanno una mobilità Molto scarsa Come armature Sono ottime Per il pvp Appunto Perché proteggono bene Costano tanto E queste Sono quelle Per fare I set Che costano Veramente Veramente Molto Queste sono Le armature Per pvp E per chi Non ha Il gear Fear Passiamo Subito Dalla più famosa La 6b43 Chiamata Fort armor Che ha 75 punti E' fatta Di combined Materials Quindi Ottima durabilità Riparabilità E protezione Però Movement Speed M-40% Turning Speed M-18% Ergonomia M-27% Però Avete una protezione Totale Quindi Torace Stomaco Ed entrambe Le braccia Poi Passiamo Alla sua Sorellina Che è la Zook 6A Ha 75 punti Come la Fort armor Materiale Fatto Di ceramica Quindi Dura poco Si ripara male Ma protegge Veramente bene Movement Speed A-13% Turning Speed M-5% Ergonomia M-6% E questa Protegge Torace E stomaco Però Le armor Class 6 Queste due Sono veramente Buone La differenza Ovviamente Tutti i debuff Tra le due I punti Di protezione Però La Zook 6A Un'ottima Un ottimo Bilanciamento In tutto quanto Diciamo Però Se ve la portano A zero La riparate Vi costa Veramente Veramente Tanto Ve la abbassa Di un sacco Di punti E potete farci Un altro Ride Se poi Ve la riabbassano Completamente A zero Poi la dovete Vendere Quindi Non è come La fort Che potete Portarla Avanti Per più Ride Se ve la portano A zero O comunque Ve la abbassano Di molto Quindi niente Siamo arrivati Alla fine Di questo video Vi ricordo Che nel prossimo Mostrerò Tutti i vari Proiettili Quindi Capirete Quali sono I proiettili Quelli Ultra Forti Eccetera Per cui Queste armature Vanno D'accordo O meno Nuovamente In descrizione Vi ricordo Che trovate Il link Al mio Disco Al disco Della community Italiana E a qualsiasi Altra cosa Quindi vi consiglio Di guardare Tutta la descrizione Spero vivamente Che questo video Sia stato utile Sia stato molto Lineare Abbiate capito Molto E soprattutto Bene E spero Che abbiate Capito Anche perché Un armor class 4 Può essere Meglio Di un armor Class 5 Quindi Guardando Il materiale Perché anche Il materiale Fa tanto Ok che può Essere armor Class 5 O armor Class 4 Ma Il materiale Anche lì Fa tanto Quindi se Il materiale Dell'armor Class 5 Fa schifo E quello Dell'armor Class 4 È buono Ovviamente È meglio Quello Dell'armor Class 4 Quindi Niente Io Vi chiedo Come in tutti I video Un feedback Per questo Video Se mi sono Spiegato Bene Se sono Stato bravo In tutto Quanto Se avete Domande E preplessità Non esitate A chiedere Sotto Che vi rispondo A tutti Quanti Quindi Nulla Noi ci vediamo In un prossimo Video E niente Ciao 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 Ciao